Buonasera, benvenuti a Firenze. Quando mi hanno detto di organizzare l'assemblea metà mandato su Firenze è venuta subito in mente un'altra iniziativa che si tiene qui a Firenze che è la Leopolda. Quando viene fatta l'iniziativa della Leopolda nient'altro è che un luogo dove le persone possono andare a esprimere i loro pensieri, le loro opinioni liberamente, c'è un timing, c'è un tempo e di fatto ci sono poi dei tavoli di confronto e di ascolto. Quindi ho pensato subito a cosa dobbiamo fare per coloro che vengono a Firenze. Ovviamente siamo una città che da sola ospita più di 10 milioni di turisti l'anno quindi cosa fare per Firenze non c'è niente da organizzare né da fare ma era importante capire cosa poter offrire a coloro che venivano qui per parlare della nostra professione. Cosa potevamo fare? Potevamo fare una cosa molto semplice dargli spazio per esprimere quello che era il loro pensiero quello che loro volevano fare e dall'altra parte ascoltare cosa pensa della nostra professione le persone che di fatto vanno a interessare la nostra attività quindi ascoltare la parte politica, coloro che vanno a decidere quelle che sono le normative che interessano tutto il nostro settore, andare ad ascoltare le persone che si occupano della nostra attività e proporre poi qualcosa a noi. Quindi questi tre giorni saranno né più né meno un momento in cui confrontarsi avremo ampi spazi per farlo e l'auspicio che io faccio è questo ascoltiamo tutti, ascoltiamo cosa ha da dire anche il nostro fornitore che ha come noi, come unici clienti e ci considera di semplice apri porta ascoltiamoli tutti, sentiamo cosa ci vogliono dire perché poi dall'ascolto, dalla riflessione e dal confronto fra di noi è lì che scaturiscono quelle che saranno le prossime iniziative e le prossime attività FIAIP quindi il confronto, così come viene fatto all'Aleopolda, è importante farlo qui oggi parlare, confrontarsi, capire dove vogliamo portare questa professione tra professionisti, tra professionali, tra abusivi da ausilare del commercio cerchiamo di inquadrare comunque oggi un'attività è quella che sarà la nostra attività, che il rischio è che se non lo facciamo noi lo farà qualcun altro, quindi buon lavoro per questi tre giorni noi ce l'abbiamo messa tutta per organizzare, per fare in modo che l'accoglienza che riceverete sia al massimo, ora sta a voi, far sì che questa iniziativa sia un'iniziativa che ci porterà nel prossimo futuro, grazie a tutti Iniziamo quindi ad ascoltare qualcuno che si occupa della nostra attività direttamente abbiamo qui il Presidente della Camera dei Commerci di Firenze, Leonardo Basilichi che invito cortesemente a raggiungermi e a portare il suo contributo all'iniziativa Grazie 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 Grazie